pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati il meraviglioso episodio della guarigione del cieco nato ha qualcosa di prezioso da dire e dare alla nostra vita ci consegna quell'opera di guarigione degli occhi del cuore che dio vuol operare in ciascuno di noi noi abbiamo un uomo cieco dalla nascita vive una sofferenza grande la realtà esiste ma lui non può vederla ecco la sua cecità fisica e metafora della nostra cecità spirituale a causa del peccato originale noi nasciamo senza conoscere dio non abbiamo la luce della sua vita in noi dunque siamo confusi su chi sia lui e su chi siamo noi su quale sia la nostra missione su cosa significhi veramente amare portiamo nel cuore grandi domande ma spesso ci accontentiamo di piccole risposte quante volte ci ritroviamo a soffrire non tanto per i fatti che viviamo ma per l'interpretazione che ne diamo quante volte leggiamo la realtà offuscati dal diaframma delle nostre angosce in balia delle nostre paure ripiegati nei nostri vittimismi quante tentazioni scambiate per occasioni e quante occasioni perse pensando fossero pie illusioni ecco la guarigione degli occhi di quest'uomo la sua progressiva venuta alla fede ci ricordano che è gesù la vera luce del mondo colui che ci rivela e ci immerge in dio rischiarando le nostre tenebre ricordo un episodio molto toccante una donna atea aveva una figlia credente questa ragazza era gravemente ammalata intubata in un letto d'ospedale sua mamma le stava vicino ad un tratto la figlia le chiese mamma mi leggi la passione di gesù questa donna già non credeva e per di più era arrabbiata all'idea che ci fosse un dio che permettesse una sofferenza del genere eppure volle esaudire sua figlia iniziò a leggere la passione ad un certo punto sua figlia si addormentò e lei continuò tempo dopo raccontando questo episodio diceva mia figlia si addormentava la mia fede si svegliava il contatto con la parola di gesù con la sua vita letti con spirito di ricerca avevano permesso a dio di iniziare a toccarle il cuore sentì la presenza del signore e comprese che non era lontano ma era lì con sua figlia e nel cuore di sua figlia ecco miei cari noi abbiamo questo episodio preziosissimo che la chiesa sin dalle origini ha riletto in chiave battesimale un uomo cieco dalla nascita incontra gesù viene unto si incammina seguendo nella parola si immerge nell'acqua dell'inviato e tornò che ci vedeva e man mano dalla sua testimonianza prendendo sempre più consapevolezza di chi è colui che lo ha guarito definendolo prima un uomo poi profeta infine riconoscendolo come messia e signore io vorrei proporvi un piccolo percorso soffermarci in particolare sugli sguardi dei vari personaggi chiedendo al signore che soprattutto in questo tempo di quaresima purifichi gli occhi del nostro cuore anzitutto abbiamo lo sguardo dei discepoli vedono quest'uomo cieco dalla nascita e chiedono a gesù maestro ma chi ha peccato lui o i suoi genitori perché sia così ecco i discepoli hanno una cataratta non indifferente e leggono tutto a partire da un principio tipico del loro tempo secondo il quale dietro una sofferenza vi era una colpa e dunque una punizione divina vedete anche noi possiamo leggere così la realtà pensare a un dio castigatore seriale tra l'altro ingiusto perché qualcuno è punito qualcun altro no o comunque riducendo tutto un principio di causa effetto cioè ciò che conta è trovare il colpevole se le cose vanno male di chi è la colpa se sto soffrendo di chi è la colpa come se tutto si risolvesse nel cercare il colpevole ora miei cari a volte è importante capire la causa dei nostri problemi ma non si può ridurre tutto alla ricerca del colpevole a volte un colpevole non c'è i fatti dolorosi arrivano e chiedono di essere accolti attraversati ciò che conta anche nella spiritualità biblica nell'etica biblica non è tanto chiedersi chi sia il colpevole ma come risolvere quel problema come poter aiutare chi sta soffrendo e infatti abbiamo lo sguardo di gesù che si accosta in tutta altra maniera anzitutto dice ai suoi discepoli né lui nei suoi genitori hanno peccato ma è così perché si manifestino in lui le opere di dio c'è un'opera che dio vuol compiere nella cecità di quest'uomo entrarci farsene carico e portarlo alla luce c'è un'opera che dio vuol compiere nella nostra vita non nonostante il buio ma proprio nel nostro buio tante volte sono proprio le nostre difficoltà le nostre cecità i punti d'innesto della grazia il luogo dove ci apriamo la sua opera allora decisivo non è capire perché c'è il buio ma cogliere la luce in quel buio passando poi dal principio di causalità quello di finalità cioè cosa posso imparare come mi può servire ad amare di più e meglio questa situazione quante volte dalle lacrime che abbiamo dovuto versare sono nate le perle più belle che oggi grazie a dio possiamo donare ora miei cari questo cieco dopo aver riacquistato la vista potremmo dire dopo aver accolto la luce è chiamato a testimoniare la luce inizia a testimoniare chi è colui che lo ha guarito e incontra varie persone potremmo dire incontra varie resistenze si tratta di resistenze esteriori e anche interiori che anche noi possiamo incontrare nel nostro cammino di conversione anzitutto costui incontra i vicini coloro che lo conoscevano come cieco come mendicante e non credono che sia lui vedete quando una persona inizia un cammino di conversione man mano inizia a cambiare nel modo di pensare di parlare di agire e quindi gli altri faticano quasi a riconoscerti sembri un'altra persona ma il problema qui qual è potremmo dire non credono al cambiamento di quest'uomo e qui abbiamo un rischio serio miei cari non credere al cambiamento possibile che dio vuole operare in noi e nella vita di coloro che abbiamo accanto non credere fino in fondo che dio mi può davvero liberare che può aiutarmi a superare una difficoltà che può darmi davvero un cuore nuovo capace di amare non credere davvero che la persona che ho accanto possa cambiare ma quante volte ci lamentiamo che le persone non cambiano ma la domanda è noi favoriamo il loro cambiamento sappiamo vedere e valorizzare i piccoli passi nel bene i gesti gentili un impegno in una determinata virtù oppure ironizziamo o peggio sottolineiamo sempre ciò che non va ecco la gente fatica a credere al cambiamento di quest'uomo e gli fa delle domande sì ma senza andare in profondità io posso vedere la conversione di una persona come dio sta operando nella vita di una persona ma non fare il passo in più non chiedermi a me questo fatto cosa dice dio cosa mi vuol dire attraverso questo evento chiediamoci so andare in profondità nelle cose o lascio che tutto scorra come se fosse una serie di eventi casuali ora queste persone accompagnano l'uomo guarito dai capi religiosi costori inizialmente pensano che sia sempre stato un imbroglione e mandano a chiamare i genitori i genitori manifestano un'altra resistenza ammettono che quello è il figlio che è davvero guarito ma ne prendono le distanze perché hanno paura di schierarsi hanno paura di essere espulsi dalla sinagoga hanno paura di perdere ogni diritto nella comunità ebraica vedete miei cari una resistenza nel cammino di conversione che possiamo incontrare è la paura del cambiamento paura delle conseguenze paura del giudizio degli altri mentre lo spirito santo spinge ad una maggior generosità al dono di noi stessi il male mette il bastone tra le ruote giocando sulle paure paura delle conseguenze paura di non farcela paura che per me sia troppo paura di lasciarmi coinvolgere sino in fondo miei cari impariamo a dare un nome alle nostre paure e ad affrontarle nella preghiera se vogliamo crescere a volte è necessario disobbedire alle nostre paure che tante volte non soltanto ci paralizzano ma rischiano di farci correre fuori strada e infine miei cari abbiamo lo sguardo di alcuni farisei di alcuni capi religiosi che potremmo dire sono i protagonisti negativi del racconto loro sono convinti di sapere già sono pieni di un sapere autosufficiente impermeabile alla realtà che li porta all'ottusità per loro gesù è un peccatore perché secondo loro ha trasgredito il riposo del sabato perché ha impastato del fango e ha guarito un uomo e chiedono ripetutamente al cieco che lo affermi anche lui ma costui giustamente dice scusate io ero cieco e ora ci vedo come può un peccatore fare una cosa del genere qual è il problema di questi farisei non accettare che la realtà sia diversa dalle idee che loro se ne sono fatti perché questo significherebbe perdere potere doversi rimettere in gioco aprirsi a una novità e quindi e quindi è meglio negare tutto questo è meglio restare chiusi nella propria lettura dei fatti senza lasciarsi scomodare miei cari è il pericolo di preferire il nostro modo di pensare alla verità di voler piegare alle idee la realtà ci mettiamo in testa una cosa ci convinciamo che è così e non siamo disposti a cambiare opinione neanche davanti all'evidenza più palese che smentisce la nostra opinione e guardate i miei cari questo non riguarda solo le grandi cose ma anche le piccole cose di ogni giorno quante volte per difendere il nostro orgoglio non siamo disposti ad ammettere che abbiamo sbagliato una decisione che aveva ragione la persona che abbiamo accanto che magari non abbiamo ascoltato si suol dire che non c'è peggior cieco di chi non vuol vedere ma forse un peggio c'è non c'è peggior cieco di chi è convinto di vedere ecco perché gesù infine dirà io sono venuto per un giudizio perché i ciechi vedano e quelli che vedono diventino ciechi cari fratelli e sorelle chiediamo dunque al signore gesù che ci guarisca lui che può e vuole donarci la luce di dio non temiamo di confessare le nostre cecità di ammettere le nostre resistenze e soprattutto quello che la bibbia chiama il grande peccato l'orgoglio e allora sì che come la luna accogliendo e riflettendo i raggi del sole illumina la notte così anche noi accogliendo e testimoniando la luce di cristo potremo rischiarare la vita e il cammino di tanti che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti